Negli anime, il pianeta Terra aveva orde di robottoni a difesa dagli invasori alieni, oppure sgargianti combattenti magiche a seconda. Noi invece, giovani pargoli degli anni 80 e 90, avevamo il Moige, ovvero il movimento italiano genitori, a difenderci dalle insidie della televisione. Che poi certo, dobbiamo ammettere che molti prodotti di animazione giapponesi non erano destinati ai bambini, o perlomeno molti dei loro aspetti. Ma quello che rendeva abbastanza assurda la censura era il tentativo di edulcorare, beh, praticamente qualunque cosa. Dedicheremo praticamente in toto la puntata di oggi a una serie anime che, dalla lotta sul ring contro la censura, ne è uscita abbastanza devastata, ovvero Rossana. Questo anime ad un primo sguardo poteva sembrare perfetto per un pubblico anche di giovanissimi, con protagonista una giovane ragazzina piena di energie che combatte contro i bulletti della scuola per rimetterli in riga. Peccato che questa sia la trama di tipo i primi quattro episodi, voglio spiegare la sigla, e che la storia dopo si dipani, assumendo tinte abbastanza mature, adulte, anche se a volte pesanti. Ma proviamo ad andare con ordine. Ah, e tutti d'accordo che Fanny è il personaggio più odioso della storia, subito dopo Chibiusa, vero? A parte brevi scene, come per esempio quando la protagonista entra nel bagno dei maschi per costringerli ad uscire, o quando Eric tocca la schiena o il petto di Sana per verificare se ha il reggiseno, molte cose sono state modificate o addirittura devastate. In primis, Rossana non considera Robby semplicemente un suo amico, nonché manager, ma è proprio innamorata di lui nonostante l'evidente differenza di età. Ma dopo Sansone e Marie del mistero della pietra azzurra, niente mi sorprende più. Difatti l'attaccamento un po' eccessivo che la ragazza nutre nei suoi confronti, nonché la gelosia per Alicia, la ragazza di Robby, erano effettivamente un po' bizzarri se lei lo considerava semplicemente un amico. Viene fatto abbastanza intendere che la foto con cui Eric sta ricatando dei professori all'inizio della serie non li ritrae semplicemente nell'atto di scambiarsi un bel bacio appassionato con limone annesso, bensì in un vero rapporto porcellone consumato all'interno della scuola. In originale, la madre biologica di Rossana la partorisce a 14 anni e la abbandona. Ma nel nostro adattamento italiano, la madre la partorisce a 24 anni e la abbandona a seguito di un incidente in cui perde la memoria. Oltretutto da questo fantomatico incidente, Rossana ne esce illesa e la ritrovano in un parco. Perché evidentemente dopo aver perso la memoria, la madre si è detta Oddio, è mo' sta pischella chi è? Vabbè, nel dubbio sai che c'è, la lascio qui a Parco Sempione. Pensa sarà la figlia dei vicini a cui facevo da babysitter. LOL! La madre di Eric morì dandola alla luce e siccome la di lui sorella sfoggia una maturità senza precedenti, incolpa il ragazzo della morte della genitrice e lo chiama figlio del diavolo. E non semplicemente diavoletto. Questo spiega una scena abbastanza fondamentale della seconda serie dove Rossana deve usare il medesimo appellativo durante uno sceneggiato e si rifiuta di farlo. La scena in cui Sana parla con Eric al parco, in originale, è abbastanza pesante. Nella versione italiana i due si prendono semplicemente in giro, ma in realtà Eric le confessa di aver sempre avuto una vita piuttosto di M. E te credo, con tua sorella che ti sveglia al suono di FIGlio del diavolo, scendi che è pronta la tua colazione del cacchio! Effettivamente non è proprio una vita semplice semplice. E il ragazzo le confessa altresì che non ha più voglia di vivere, quindi se lei veramente vuole aiutarlo, allora deve ucciderlo e le allunga un coltello. Che Sana conficca nell'albero dietro di lui. Questo spiega perché nella puntata dopo la ragazza lo segue praticamente dappertutto. Nella versione italiana non aveva molto senso vinta la censura subita, ma in originale la giovane aveva paura che lui si togliesse la vita. Dopo un litigio con la sorella Eric sferra un pugno al muro e la sua mano inizia a sanguinare. La sequenza è stata ovviamente eliminata nell'adattamento originale perché il sangue non sa da far vedere in nessun modo nemmeno durante il ciclo mestruale, ma di questo magari parliamo nella prossima puntata. C'è poi la questione dell'ultimo episodio della serie. Ovviamente da noi è stato tagliato, ma dopo la sigla finale in originale era presente un montaggio velocissimo dove succedeva praticamente di tutto. Non sappiamo se fosse un trailer per un'eventuale nuova serie o altro, comunque in ordine vediamo. Eric che fallisce la gara di karate, un uomo misterioso che dice a Sana che sarà la sua sposa, l'ex ragazza di Jeremy che picchia Fanny. L'avremmo voluto fare tutti. Grazie. Robbie che legge su una rivista che Alicia si è sposata con un regista ed Eric e Sana che vengono attaccati da degli Yakuza. Insomma, un minestrone di cose random, sparate a tutta velocità, delle quali purtroppo non sapremo mai nulla. Se volete vedere questo super mega montaggione vi lascio il link qui sotto nell'info box. Alla fine le censure di Rossana erano così tante che è venuta fuori una puntata monotematica. Triste, eh, quando c'è troppo da dire sulle censure. Sì. E la posizione di Indy nei confronti degli adattamenti brutti qual è? Beh, l'espressione è la stessa del peluche incazzoso dietro di lui. Sono contrariatissimi. Pure sgargianti i combattenti maghi che è a seconda. Quello che rendeva assurdalla la censura. Assurdalla. Come oggi di una serie che dà la botta sul ring. Sì, sul ring prendi le botte ma era lotta. Anima ed un primo guardo. Guardo. E la stoia dopo si ripani dimenticandosi l'erro. Tutte cose sono state modificate. O... Eh, no. Difatti l'accanimento a volte è un po' eccessivo. Che era attaccamento o non accanimento. In originale la madre biologica di Rossana partorisce... Partorisce... Così. Oltretutto da questo frantomatico incidente ho sbagliato. Una scena abbastanza fondamenta della... No. Devi usare il medesimo appellativo in uno sceneghiato e sbaglia. Delmonio scendi che ho pronto la tua collezione. No, colazione. Dopo un litigio con la sorella, Erick sforna un pugno nel muro. Dal forno. Che cosa dico? Il quesito dell'ultimo episodio. Questione. Insomma, un mineprone di... Di lilletta che sbaglia.